Facciamo un saluto insieme al maestro Sparagna perché è affascinato dalla nostra terra e da un brano in particolare che suoniamo sempre alla fine del nostro concerto, che sono i canti alla stesa, che sono i canti alla lunga, cioè che sono una nota, questi grandi pastori della nostra terra, soprattutto le fontitune di Valle Porcina, a cui io voglio dedicare questo brano perché è grazie a loro che ho la possibilità di portarlo in giro e ogni volta che chiudiamo il concerto veramente rimangono affascinati da questo brano preso da loro che è proprio l'emblemma stesso della pastorizia e della solitudine del pastore, come diceva giustamente il professore Maurizio. Noi vi salutiamo questo brano insieme ad Ambrogio. Che bella notte, che bella sera Che bella notte. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, grazie a Ambroggio, grazie a Erasmo, grazie a Valentina per aver accettato il nostro invito. Grazie. Massimo Antonelli e Calomus. Grazie.